Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritornati all'appuntamento con le previsioni di Tv6. L'anticiclone sub-tropicale avvolge tutto il Mediterraneo e lo farà per buona parte della prima settimana di agosto. Come si evince dalla boviola previsionale, notiamo le perturbazioni molto lontane dal Mediterraneo. Scorrono sull'Europa settentrionale, l'Italia sovrassata dall'anticiclone almeno fino al termine della settimana, eccetto qualche nuota instabile al nord e in Appennino. In Abruzzo nel corso di questo mattedì, una giornata prevalentemente stabile, ma non troppo. Infatti, tra la tarda mattina e il pomeriggio, potrebbero scorrere un po' di nubi, nubi medio-alte, un po' su tutto l'Abruzzo. Naturalmente potrebbero degenerare in qualche equazione o temporale durante il pomeriggio, perlopio in montagna, soprattutto sui settori meridionali della regione, tra la Maiel, il Bastese, la Val di Sangro, qualche equazione, qualche temporale, comunque abbastanza rapido. Non parliamo di fenomeni molto estesi, le temperature tornano a salire, le massime fino a 23, localmente 34 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.